A 11 anni dal sisma del 6 aprile del 2009 sono pronti a partire i lavori di restauro di Palazzo Centi all'Aquila che fino al terremoto è stato sede della presidenza della giunta regionale. Lavori finanziati con 13 milioni di euro che dovrebbero essere ultimati entro due anni e mezzo e che arrivano dopo un lungo iter e contenziosi oltre che un'inchiesta giudiziaria sull'appalto affidato dalla precedente amministrazione regionale di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso. Ieri c'è stata la breve cerimonia di consegna dei lavori con la visita al cantiere da parte dell'assessore regionale al patrimonio al bilancio Guido Quintino Liris e il governatore Marco Marsilio. Nel lungo iter di restauro del palazzo partito nel 2012 la giunta regionale ai tempi dell'amministrazione di centrodestra guidata da Gianni Chiodi dopo un serrato braccio di ferro con il provveditorato interregionale alle opere pubbliche precedente stazione appaltante è riuscita a prendere in mano la commessa come ente responsabile dell'appalto. I lavori sono stati affidati alla ditta General Costruzioni SRL di Isernia a giudicataria dell'appalto. Il palazzo avrà un cortile aperto sulla scorta di quanto già avvenuto con il consiglio regionale per il restauro del complesso del palazzo dell'emiciclo. La giunta si riunirà nella splendida sala della Castellina uno dei punti più alti e panoramici della città. Sarà recuperata anche la sala rossa sede della presidenza della giunta. Il palazzo inoltre sarà restaurato secondo le più moderne tecniche di sicurezza antisismica e garantendo la massima accessibilità. I lavori restituiranno anche la neviera scoperta nei sotterranei, antica testimonianza di un'attività cioè la conservazione della neve per la produzione di acqua e ghiaccio che ha contrassegnato in maniera identitaria la storia della città dell'Aquila. Partono finalmente i lavori, è un segno di grande speranza e di gioia per l'Aquila e per tutto l'Abruzzo. Gli aguilani sono fortemente legati a questo palazzo che non a caso rappresentava il cuore dell'istituzione regionale e del senso del proprio essere capoluogo. Finalmente siamo in grado di poter consegnare alla città il cantiere con gli operai che ripeto da lunedì inizieranno finalmente i lavori e tutta la città potrà vedere un vuoto urbano che torna a dare il senso di una ricostruzione che si avvia finalmente a far vedere la luce dopo tanti anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.